Il rombo dei motori viaggia a braccetto con la sicurezza stradale per la terza edizione del meeting motoristico che si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 giugno ad Arezzo. L'evento promosso da Arezzo Motori in collaborazione con il club amatori macchine agricole d'epoca e patrocinato dal comune di Arezzo si svolgerà nella piazzale di Arezzo Fiere e Congressi e nella diacente area dell'ex camposcuola. Presenti alla conferenza stampa questa mattina le forze dell'ordine tra cui il questore di Arezzo e il comandante della polizia stradale Alessandro Rossi. Nel prossimo fine settimana ci saranno altri controlli su strada con il drogometro, già 10 le patenti ritirate nello scorso weekend. La battaglia è culturale ha detto il questore soprattutto sui corretti stili di vita. Durante la manifestazione ci sarà infatti ampio spazio alle pratiche di educazione stradale con la partecipazione anche dell'associazione guidare sicuro e della polizia stradale di Brescia. Oltre a tutto questo il raduno motoristico si abbina alla solidarietà con la donazione di un trattore agricolo Goldoni al comune marchigiano di Ussita. L'auspicio conclude Mario Mazzi, uno degli organizzatori, di contribuire a risollevare le sorti di un territorio e dei suoi abitanti colpiti dal terremoto dell'estate scorsa.